Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare o merosi, a lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, iscrivetevi anche al mio canale personale qui sotto c'è il link, andiamo verso i 20.000 iscritti, e poi seguiteci su Instagram, alla mia pagina, a quella di Milanello, con tante novità in arrivo. Poi ribadisco, stiamo lavorando con l'ottimo Fabrizio Rota a un video pazzesco, che secondo me è destinato a rimanere nella storia del Milan, un video di approfondimento, di emozioni pazzesco, ci vorrà ancora un po' di tempo perché è un lavoro lungo ma ne varrà la pena, quindi allacciatevi le cinture e iscrivetevi a Milanello. Allora ragazzi, sta succedendo davvero di tutto, tante 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 novità, e anche, devo dire, clamorose. Innanzitutto, partirei dalla eliminazione dell'Algeria di Ben Nasser. Allora, innanzitutto è un caso un po' curioso, perché due edizioni fa l'Algeria l'aveva vinta con Ben Nasser, che era stato premiato come miglior giocatore del torneo, aveva giocato da mezz'ala. La scorsa edizione, ci ricordiamo, eravamo un po' in ansi, in preoccupazione perché avevamo perso Ben Nasser e che sì, anche lì l'Algeria fu eliminata subito, nonostante fosse la favorita. Quest'anno è eliminata subito ancora l'Algeria di Ben Nasser, ci spiace per lui ma siamo contenti per noi, a livello egoistico, avevamo detto. È legittimo bufare l'Algeria, non ce ne vogliono amici algerini, però il nostro ecosistema è rosso-nero. Così è stato, quindi rientra. Rientra come però? Ha avuto dei problemi, di fatto non ha mai giocato, quindi è andato là, si è allenato, si è fatto male, è stato con i compagni, però poteva essere utile al Milan fargli mettere minuti nelle gambe, condizione, fiducia anche psicologica. Invece c'è stato un passo indietro da questo punto di vista perché ha avuto dei problemi all'aduttori, con la risonanza che ci dicevano era negativa, però non ha mai giocato. Anche ieri non era nemmeno in panchina, quindi c'è stato un intoppo, che anche fisiologico dopo un'infortuna del genere, diciamo che ha sprecato questo mesetto. Direi di sì. Tra l'altro, ecco, il famoso karma, avevamo chiesto all'Algeria di lasciarci qui, venne a stare per la partita di Coppa Italia, ricorderete, e l'Algeria aveva detto no. Algeria a casa, il karma, il famoso karma. Detto questo, pensando a noi, recuperiamo un giocatore importante, da Milanello filtrano buone notizie, cioè non dovrebbe essere nulla di serio. Ora lui sta per tornare a Milano, giochiamo sabato sera, magari non lo rischiano e rientra la settimana successiva. Sicuramente non lo rischiano, visto che comunque qualcosa l'aduttore evidentemente ha avuto. Però poi rientra, e questo sapete che cosa significa? Che abbiamo subito Ben Nasser. Dall'altra parte, però, secondo me, ragionando insieme a voce alta, come ci piace fare, è una supposizione, non una notizia. La sensazione è che il famoso centrocampista, a cui faceva riferimento Pioli, la scorsa settimana in conferenza stampa, quando ha detto il difensore sì, se c'è l'opportunità magari anche il centrocampista, indovinate, sparito. No, secondo me esce dai radar, esce dai radar, stiamo avendo difficoltà a prendere il difensore, quindi figuratevi il centrocampista, magari si lavora più per l'estate in questo senso. Quindi rientra Ben Nasser, secondo me, ripeto, il centrocampista non arriva. Dopodiché c'è la vicenda clamorosa, emersa ieri, in intervista di Filippo Roma, un arbitro pentito alle Iene, che evidenzia un quadro generale poco sereno della classe arbitrale, con gelosie, fazioni, favoritismi e anomalie forse anche un po' sul sistema. Alcuni punti mi hanno colpito molto. Intanto il primo dice, sono 4-5 arbitri tra A e B che vogliono denunciare l'AIA per irregolarità nel sistema. Denuncia molto grave, perché irregolarità e arbitri dovrebbero essere un ossimero, cioè dovrebbe essere un sistema sano, limpido e trasparente. Dall'interno qualcuno sta denunciando qualcosa che invece non è così. Vengono evidenziati gli errori, il rigore negato al Bologna in Juve-Bologna, il fallo di mano di Pulzic prima del suo gol in Genoa-Milan, il fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona. Va bene, vi giuro, non lo dico perché sono di parte, però l'AIA stessa ci aveva spiegato con il gol di Udoggi che mancava il frame, l'immagine chiara. Hai la netta sensazione al 99% che fosse fallo di mano sì, ma non hai il 100%, quindi il VAR non poteva intervenire. Così lo stesso. Per questo mi sembra comunque che la denuncia sia da seguire, che però sia figlia di frustrazione di magari un arbitro che è stato un po' accantonato, perché proprio in termini di arbitraggio Pulisic non può essere annoverato come errore, perché non c'è l'immagine nitida al 100%, ci avevano detto, no? Però poi prosegue dicendo che vengono fatte le valutazioni sugli arbitri, ricevono dei voti, cosa che qualcuno ci aveva detto no, non è così. Perché ci avevano detto di no? In questo dice, se le valutazioni dipendono da dinamiche, diciamo politiche, allora in questo modo c'è il rischio che si falsino i campionati. L'allusione è, se io arbitro, faccio un danno, una big, potente nel palazzo, rischio di essere magari penalizzato. O meglio, il corretto del tuo pensiero ulteriore secondo me è, se io nel dubbio magari favorisco una potente, non vengo messo da parte, non ricevo una valutazione negativa, al pari magari che se penalizzo una squadra non potente. Poi cito un caso che io avevo citato. Il VAR, non sempre quello che viene deciso in campo, l'intervento del VAR durante le partite segue un criterio omogeneo. Per esempio, il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, quindi parla di Milan, quel rigore sull'Oftus-Cic, in cui il VAR non interviene, il rigore è dato all'Inter in Inter-Lazio, in cui invece l'intervento del VAR c'è stato. Immagini, cioè episodi molto vicini, uno rigore e l'altro no. Non solo, a volte la scelta delle immagini per giustificare una decisione presa non convince neanche noi addetti ai lavori. C'è la sensazione che alcuni abiti vengono protetti e tutelati, altri no. E poi prosegue e apre un caso, secondo me, lamoroso, cioè la scelta del frame su cui tirare la riga per il fuorigioco, no? Cita il caso di Juve-Roma-Rabbiot. E dice In questo caso, per capire se il giocatore della Juve che realizza la rete in fuorigioco oppure no, il VAR ha scelto il frame del primo momento in cui il piede di Vlaovic tocca il pallone. È in questo istante che viene tracciata la linea. Dopo il primo contatto con il pallone, però, se fate attenzione alla gamba, di Vlaovic compie un movimento. È solo in questa posizione finale che il pallone si stacca dal suo piede. E badate bene che in questo spazio temporale che intercorre dal primo contatto a quando vediamo che la palla si stacca dal piede, cambia tutto lo scenario per la determinazione geografica del fuorigioco. Quindi ci chiediamo, come mai è stato scelto il frame che il VAR ha mostrato in tv, piuttosto che il frame che a rigore di logica sembrerebbe quello corretto? Quindi anche qui ci sono frame e frame, anche sul fuorigioco, la cui valutazione poi diventa bianco o nero, o c'è o non c'è. Ed è stato un apporto importante da parte della tecnologia. Però metti il frame prima, metti il frame dopo. Cambia tutto. Cambia davvero tutto. Il caso vuole che tutte le persone che si sentono penalizzate non vengono ritenute vicino allo schieramento che sostiene la prossima probabile candidatura di un certo gruppo del mondo arbitrale e che adesso occupa i ruoli di vertice. Quindi dall'interno un arbitro denuncia davvero gravi anomalie. Poi il sospetto è che lo faccia perché è stato messo un po' da parte, però ci sono dei casi oggettivi, no? Cioè che fossero anomalie era abbastanza evidente. Detto questo, descrive un quadro preoccupante della classe arbitrale. Un quadro con forse preferenze, favoritismi, gruppi, scelte politiche e secondo quest'arbitro così facendo si possono condizionare i campionati. Non omogeneità nel giudizio di arbitro e di VAR. Insomma, un gran disastro. Effettivamente se ci pensate quest'anno, mai come quest'anno, secondo me, stiamo assistendo a dei disastri arbitrali. E questo fa riflettere. Quest'intervista fa riflettere. Secondo me, condizionata molto, ripeto, dal fatto che l'arbitro sia stato messo un po' da parte, da antepatie, gelosie, però ha delle cose che dice vanno prese in considerazione. Arbitri che denunciano, il discorso dei frame, case analoghe che vengono giudicati diversamente. Parla appunto di quell'episodio del Milan e di Pulisic, dove però ci hanno detto che non c'era il frame, come è il caso di Udogi con noi, e poi quello non ha segnato alla Roma invece ha segnato contro di noi, per noi contro la Roma e ha segnato invece in Inter-Lazio. A questo proposito esce un ulteriore elemento, emerge, cioè che durante la partita tra Napoli e Inter di Supercoppa, Rocchi è andato all'intervallo da Rapuano che era l'arbitro per dire lì che non gli piaceva la direzione. Da lì capite il perché del cambio di registro e di metodo di giudizio da un tempo all'altro. Però anche qui mi sembra un clamoroso autogol di Rocchi. Perché devi andare giù, intervenire, e cambiare di fatto il metodo di giudizio condizionando il secondo tempo? Primo tempo Ciananoglu ha fatto tre o quattro falli e ha preso il giallo al quarto fallo. Nel secondo tempo Simeone ha due falli, due gialli e espulsione. Cioè entrare a gare in corso così non mi piace, cambia metro. Secondo me è stato un errore che ti simpone, secondo me, poca lucidità e poca serenità anche dei vertici stessi. Detto questo, vediamo quali saranno gli sviluppi. Rocchi ti sei detto sereno. Sicuramente ecco questo rende ancora più difficile capire e accettare certe decisioni. I posti sono ancora più avvelenati, però vanno fatte riflessioni, secondo me. È una denuncia che non può passare inosservata perché non la faccio io, non la fate voi, la fa chi è dentro al sistema e vede tante cose che non vanno bene. Vediamo un po' quali saranno gli sviluppi. C'è tanti casi poi in cui la Juve è stata favorita. Sinceramente non ho questo sentore che la Juve sia stata complessivamente così tanto favorita. Io ho sentore invece che la squadra che sia stata complessivamente più favorita sia stata evidentemente l'Inter. vediamo che cosa succede e signori tra una settimana circa c'è la chiusura del calciomercato guardo fuori orizzonte c'è qualche montagna c'è qualche tetto voi vedete qualcosa a livello di colpi? Insomma l'ambizione dov'è? Ne parleremo magari nel prossimo video perché abbiamo altre novità ma ci siamo un po' dilungati mi raccomando ditemi il vostro punto di vista che cosa vi ha colpito di più che cosa leggete anche dietro a questo e su Benna Serra insomma da che parte state alla fine torna non compreremo nessuno credo a centrocampo e è stato un po' sfortunato una torri per nulla insomma lasciate un bel like commentate iscrivetevi mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale personale seguiteci su Instagram Andrea Longoni e Milanello un abbraccio vi rimando al video di questa mattina in cui ho risposto alle vostre domande ho parlato anche del futuro di Rafaleao ma non solo Conte Arabi tante news un abbraccio grazie